Alzi la mano per iscriversi a parlare, prego Ivan Delogu. Buonasera, allora, per quanto riguarda il mini-eulico da 59 kilowatt, noi in azienda l'abbiamo installato e l'abbiamo messo in funzione nel 2015. Questa risulta una pala incremento all'azienda agricola. La pala è autorizzata da tutti gli enti, l'ultima parola mi è stata data dal nostro comune che è l'ultimo ente che deve autorizzare. Poi, un'altra cosa, le pale euliche che sono situate nel nostro territorio obitese non sono tutte col diritto di superficie. E automaticamente quelli che hanno dato le pale con il diritto di superficie hanno l'autorizzazione dai loro proprietari terribili. Poi ce ne sono altre, che so che hanno altri agricoltori che hanno acquistato direttamente le pale. Sono confuso, mi sono confuso. Comunque, volevo dire che, assolutamente secondo me, secondo il mio parere, e poi ognuno esprime le sue opinioni, non creano nessun impatto ambientale, non deturbano negli animali né niente. Bu, basta. Questo è quello che voglio dire. Perché anche io sono pastore, c'ho il bestiame e assolutamente non crea nessun problema. Bu, basta. Grazie, grazie, grazie.